...relativa alla cooperativa di abitazioni, proprietà in divisa, per esempio di gattigio di buoni, io sono Presidente, però gli aspetti che sono stati toccati per questa mattina portano a fare alcune considerazioni primarie e generali che sono stati toccati a essere gli argomenti che si vanno a sposare molto bene, molto prima dell'abitazione nella nostra città probabilmente gli chiederebbero forse anche una riflessione molto più ampia e forse autonoma su questo aspetto, credo che il problema dell'inventiamento, della città che diminuisce, il problema sociale, persone che sono sole, si sposa molto bene con quello che è il problema dell'abitazione che noi abbiamo, direi abbastanza pesante. Io volevo partire quindi da due considerazioni di carattere globali e cioè che, come possiamo vedere, due dei pilastri fondamentali su cui si basa qualsiasi situazione di dignità umana, di dignità dignitosa, sono sicuramente il lavoro e l'abitazione e molto spesso questi due pilastri rappresentano anche il confine tra la possibilità di avere una vita dignitosa e magari il barato di un problema di disperazione o di crisi anche sociale e economica. E' un altro dato che è fondamentale per parlare di quella abitazione è che ovviamente la crisi di questi anni, la politica liberistica che è stata attuata, ha portato, mi sono stato molto detto anche all'inizio, un aumento di quella che è la forbice tra quello che è stato molto bene e quello che invece stanno molto meno bene, stanno anche alimentando molto più, molto e molto anche velocemente quella che è la parte più fragile della popolazione sociale, a cui ti puoi investire anche il problema dell'abitazione. Io mi ero cercato qualche dato, così su questa cosa qua, e vedo che c'è uno studio della COF operative che ero parlando sul problema della crisi economica e sul lavoro povero, le pensioni, il ritardo, il aumento del mondo del lavoro, ci dice che c'è il rischio che ci siano oltre 5 milioni di lavoratori che se questa tendenza non dovesse cambiare potrebbero alimentare quella che è la fila dei poveri nel nostro Paese entro il 2050. E quindi questo diventa un fatto estremamente importante anche nei confronti del problema dell'abitazione. perché abbiamo visto che la crisi economica ha investito in modo pesante anche il settore dell'edilizia e il settore dell'abitazione e ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza abitativa. Ci sono degli studi che dicono che quando il canone, parlo di ovviamente locazioni di carattere anche economico, quando il canone supera il 30% del rete familiare rischiamo di cadere in un discorso di disagio migrativo che può portare poi alla impossibilità di far conto al pagamento di questo canone. Ci sono alcuni studi legati alla nostra città e alcuni dati che cerco di dare velocemente. Noi abbiamo uno studio fatto dal servizio che ci dice che nel 2017 sul nostro territorio sono stati rimessi 514 preventi di sfratto e di questi ben 400 sono legati al problema della monosità che penso che è anche una monosità incolpevole in quanto è terminata la presa del posto di lavoro, la ricerca di situazioni di carattere sociale. Quindi si rinizia come un punto di questo problema una buona parte legata proprio alla propria problema della pubblica sociale e della carenza economica e quindi la gente è verificata. Nel nostro territorio abbiamo la grossa presenza di alcune istituzioni pubbliche su quella dell'abitazione che sono l'Aler e il Comune di Pomo. L'Aler, che ha 104.100 alloggi nella nostra provincia, ha però 1.100 alloggi nel Comune di Pomo. Di questi 100, 1.100 alloggi che stanno alla stima nel 2016, risulta che vi siano oltre 600 domande di persone che chiedono di avere un alloggio all'Aler a fronte di una disponibilità annua che è di circa 50-60 appartamenti. Quindi possiamo dire che l'Aler che riesce, secondo questi studi, a soddisfare migliamente il 10% della richiesta di abitazione che ha ogni anno. Il Comune di Pomo, che è l'altro invece il grosso processore di alloggi, ha degli alloggi, questo è un altro non recentissimo, per dire qui, ci mi pare, 760 alloggi di intersidenziale pubblica, di cui però ne ha circa il 30%, quindi 350, inagibili, ha una monosità altissima e ha dato il dato del Comune di Pomo che solo nell'anno 2014 i servizi sociali del Comune di Pomo hanno ricevuto oltre 110 domande di abitazione da parte di soggetti di Pomo. Quindi ci rendiamo subito conto di come il problema dell'abitazione in Pomo per quanto riguarda i soggetti deboli, quindi non per quanto riguarda il libromercato, che invece può essere anche il glorico, ce ne abbiamo citato anche prima, il libromercato, i soggetti deboli, il problema dell'abitazione è un problema veramente importante. Oltre a queste due istituzioni in cui ho parlato di area comune, ci un Comune di Pomo, per fortuna, esistono anche altre realtà, in particolare alcune cooperative, che operano nel campo dell'abitazione e che in particolare hanno il loro progetto sociale in modo prioritario e quello dell'assegnazione degli alloggi da proprietà indivisa. Cioè quindi regolata l'assegnazione degli alloggi a fitto, che è chiamata in modo diverso in cooperative, in quanto è assegnazione dell'alloggio in condimento al soggetto della cooperativa, che per altre è un'assegnazione a tempo più limitato, comunque altra è limitata, perché il soggetto parte ovviamente dall'abitamento, paghi il carnet, il carnet di condimento, e rispetto a quelli che sono i regolamenti della cooperativa. La cooperativa, di cui faccio parte io, è una cooperativa forse la più storica di Pomo, da questo punto di vista, ed è importante anche, riassumo, e faccio velocimente perché il tempo è poco, è una cooperativa storica, fondata nel 1901, naturalmente allora c'era un'assessibilità anche maggiore rispetto ai problemi della città e ai problemi dell'agenzia. È stata infatti costituita da Aristide Vari, il quale aveva individuato la necessità di dare dell'abitazione agli operai e alle loro famiglie che venivano che venivano tutto controllo valore. Quindi, in arte in questo modo, oggi dopo 108 anni, la cooperativa ha 2.600 soci, perciò, ha all'interno della città di Pomo, oltre 1.000 appartamenti dati in condimento, quindi con 1.600 abitanti in città di Pomo, e altri diversi modi di carattere commerciale. E proprio perché dicevo che la sensibilità era molto diversa ai tempi, devo dire che il patrimonio della cooperativa che è solo Procomo, è stato creato per la maggior parte dei primi 30 anni della cooperativa, tantissima che dal 1900-1950 la cooperativa ha realizzato il 70% del suo patrimonio inobiliare, perché in quel momento c'era, per i loro situazioni diversi, c'erano dei terreni, c'era la possibilità da parte di tanti industriali di Pomo, di partecipare, di contribuire, aiutare la cooperativa a creare questo patrimonio, e quindi in questi anni si sono creati veramente la maggior parte di lo che è il patrimonio di quegli anni della cooperativa. Tanto è vero che successivamente nel 1950 fino al 2000 la cooperativa ha potuto solo completare due quartieri che sono un quartiere che abbiamo in Piazzenza o più uno in Pia Paniani e che sono stati possibili fare grazie al alcuni contributi della Cassa di Risparmio per sostegno dell'amministrazione comunale per alcuni anni dato anche una certa attenzione a quella che era l'attività della cooperativa e l'attività delle cooperative e tant'è vero che l'ultimo investimento che si è fatto nella cooperativa è stato fatto su un territorio che è nella città ma è nella compalla della città di Arecchio dove era stato acquistato nel 1965 un grosso terreno su cui sono state inserite i palazzini che avevano oggi 200 famiglie che poi nel 1986 è stato fatto l'ultimo intervento da parte della cooperativa sempre adiacente a questo terreno di Arecchio dove sono presi un altro terreno per il comune e sono state costruite 70-80 appartamenti che è stato l'ultimo intervento che è stato fatto da parte della cooperativa di Arecchio e stanno tentando da parte della cooperativa anche un intervento più a ben vedere riuscito ai tempi di costruire delle abitazioni da vendere qui sono cinque a prezzi che sono non di mercato ma prezzi destramente sotto il mercato come dicevo le ultime condizioni della cooperativa risalte nel 1986 dopodiché ovviamente essendo un patrimonio che è stato costruito dicevo nei primi 50 abbiamo verificato che era un patrimonio completamente inadeguato a quelle che sono le esigenze di oggi oggi abbiamo chiaramente dei quartieri anche abbastanza popolosi dove tanta gesta sossiana che hanno esigenze diverse per esempio gli alloggi da volte erano tutti fatti senza gli ascensori oggi viene dovuto avviare un programma di rispettazione di quello che è il nostro maldemonio installando dove possibile appunto quelli che sono gli ascensori abbiamo dovuto rivedere quelli che erano agli appartamenti costruiti ai tempi che avevano i locali col bagno sul balcone quindi abbiamo un grosso programma di revisione che di allora non sarebbe più attuale rispetto di oggi e quindi la cooperativa non ha più potuto costruire nuove abitazioni ma si è dedicata a quello che è un percorso di ristrutturazione dei fabbricati più vecchi per realizzare appartamenti più grandi dotati di mezzi e servizi necessari degli ascensori e cercando poi da dove la nostra popolazione i nostri tempi per fortuna finché non muoiono un poverino possono comprarsi una casa non vanno via abbiamo cercato anche di cercare di amalgamare un povertino quelli che sono dei vecchi soci che ci abitavano dando le nuove abitazioni ma è una famiglia giovane qualche giovane molto reale quindi una situazione di questo tipo però qui sentivo parla stamattina di problemi degli anziani problemi di solitudine che è parte dei nostri quartieri abbiamo questo problema di tanta gente anziana vive da sola che sono immigrati o non immigrati ma sposati per la loro in altre città non da sole quindi qui viene a fare una riflessione anche sulla possibilità di dare a queste famiglie a queste persone anziane sole dei servizi dal punto di vista abbiamo avviato un percorso che però è giunto forse neanche la metà in quanto abbiamo sistemato 600 appartamenti però abbiamo ancora altri 300 che sono in base di sistemazione dobbiamo dire una cosa all'interno di questo che da un certo punto in avanti la cooperativa la cooperativa ma le cooperative perché io parlo di cooperativa mia ma la nostra cooperativa ma anche la cooperativa ovviamente non ha più contenuto per i miei motivi da parte delle istituzioni che in parlo comune in generale provincia in regione quella attenzione che in passato la sede osservata per cui non abbiamo nemmo avuto abbiamo fatto una serie di interventi per esempio nel 2009 abbiamo fatto nell'ambito del programma regionale emergenza a casa e non abbiamo ottenuto alcuna soffezione mentre per quanto riguarda alcune richieste del 2010 perché abbiamo fatto l'intervento in situazione pesante in via per l'asca abbiamo ottenuto delle contribuzioni regionali che sono però considerate in linee dando per dare un'idea la cooperativa con i mezzi propri perché la cooperativa vive solo quelli che sono i cani che vengono dalle persone che ci abitano ha avviato adesso un programma di ristrutturazione di una palazzina a Como invianciato che porterà un anno e mezzo a avere 30 nuovi trattamenti per la cooperativa presentata di investimenti di 102 milioni e mezzo e 3 milioni di euro la regione Lombardia aveva aperto un banco e ci darà un contributo sugli interessi che non andremo pagare per il tributo che facciamo di 400 450 milioni tutto il resto è a calco della cooperativa che devo acconti con i toni che sono a parte dei canoni per quanto riguarda i canoni la cooperativa ha cercato a un concetto ad applicare canoni sostenibili quindi non ci riferiamo per tutte le grosse discussioni a tenere possibili amministrazioni non guardiamo all'uomo e al libero mercato ma ragioniamo un pochettino per i che possono essere i canoni sostenibili per le persone che vanno ad abitarci noi abbiamo dovuto due anni fa perché le nostre entrate sono solo legate ai canoni aumentare in modo sensibili quelle che erano i canoni delle nostre abitazioni anche se però devo dire che fino a tre anni fa le nostre abitazioni si pagavano per quanto riguarda con tre locali dai 200 ai 300 euro al mese oggi abbiamo aumentato e si paga dai 300 ai 400 euro al mese ma se poi non si tratta di appartamenti culturati o subitulturati però i nostri cambi sono veramente di questa e di là ovviamente se non ci sarà nel futuro una maggiore attenzione da parte della regione da parte del comune rispetto alla cooperativa ovviamente siccome purtroppo i costi continuano aumentati i costi di gestione aumentano cito per esempio noi che abbiamo avuto una grossa spesa e continuiamo per la presa offese solo per prevenire il riscorso della regionella all'interno delle nostre abitazioni sono aspetti che una volta non si pensavano oggi solo per questo noi abbiamo delle spese che sono 10 o 20 mila euro all'anno perché noi abbiamo obligati fanno delle analisi fanno delle verifiche e quindi ovviamente i costi della cooperativa aumentano e quindi la preoccupazione è quella di cosa dovrebbe essere la cooperativa da qui a contagli se non avremo altre entrate di diverso tipo e dovremmo andare a gravare solo su quelli che sono i nostri presidenti c'è da dire che dagli ultimi 15 anni forse anche 20 anni la cooperativa non ha mai avuto un apporto di relazione con il Comune di Cuomo la provincia mai cioè non c'è stata un'occasione in cui ci sono detto voi che siete cosa fate venite in realtà non parliamo mai questo isolamento credo che sia una cosa che è assolutamente inaccettabile in realtà abbiamo chiesto sia con i vicini anche adesso di avere un confronto per capire un attimino quella che è la situazione con i miei possessi rapporti per affrontare il problema di navigazione sulla città al momento che lo vediamo in un modo completamente isolato rispetto a quello che sono le condizioni della città credo che sia indispensabile che il problema dell'abitazione venga oggi affrontato su un tavolo parte di istituzioni ai quali devono essere invitati a partecipare tutti quelli che sono i soggetti pensati come noi sono le cooperative e anche questi soggetti perché solo su questo tavolo si può affrontare anche in prospettiva non solo il problema di fare in buona abitazione domandone noi abbiamo appena acquistato l'area ex fuori che vinta abbiamo un po' l'asta per altri giorni dobbiamo pagare ancora però non so quando ci speriamo di poter andare a costruire due palazzine con una cinquantina di muore in quanta meno in quella zona non so ancora quando perché dipende poi dall'aspetto economico della parte cooperativa però credo che solo intorno al tavolo si potrà aggiornare e dire c'è quell'area di smessa noi la possiamo dare con prezzi convenzionali prezzi agevolati prezzi senza pagare oale e noi magari diciamo a metterci un contributo dal punto di vista economico dell'estrutturare e ad affrontare anche il problema poi ci dice abitare e quindi gli aspetti sociali che sono legati al problema dell'abitazione anche il discorso della mia volta di più prima c'è andava quando aveva le pezzoni e poi è rimasto lì un patto in aria per esempio la cooperativa avrebbe anche le potenzialità per sotturare degli apparteni è un sogno mio personale piccoli appartamenti per anziani autosufficienti di trovare la cooperativa e magari la cooperativa a volte lì uno stabile dato a condizioni non regalate ma condizioni ci mette l'aspetto di ristrutturazione e poi lo fa gestire dal punto di vista sociale al comune o ad altre associazioni di vedere questo ma devono arrivare l'aspetto naturalmente però se non ci mettiamo il giorno al tavolo non piace la sua strada e la sua strada pur si vanno così grazie